Dopo aver percorso con Sindaco e Prefetto il Ponte Votivo, dal pulpito della Basilica della Madonna della Salute, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha messo al centro la figura femminile di Maria e l'importanza della donna nella nostra società. Abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione femminile in tutte le sue dimensioni, perché è di lì che nasce il futuro dell'umanità. È darsi di Maria, ma è anche darsi di una donna che accetta di accogliere la vita. Poi richiamo accorato alle prove che Venezia ha affrontato in particolare in questi ultimi tre anni. La nostra città sta sollevando il campo dopo prove ripetute e ravvicinate. Le acque grandi, la pandemia e il lockdown ha portato. Si sta sollevando il campo ed è il momento allora di essere generosi e capaci di alzare lo sguardo. Attraversare il Ponte Votivo, per il Patriarca, significa riflettere sull'importanza di creare un dialogo in una festa vissuta da tutta la città. Il ponte che abbiamo inaugurato e percorso ci richiama la necessità di essere punti nei confronti soprattutto delle popolazioni provate dalla guerra. Ed è importante che insomma dopo anche anni difficili di Covid si sia tornati a pieno ritmo e con tanta gente anche oggi. Speriamo che sia un momento di riflessione, un momento anche per guardare avanti e che la salute richiami tanti veneziani.